Presidente Centinaio, i clandestini minori non accompagnati che arrivano nel nostro paese alla fine dopo non se ne trova più traccia? Sì, è un grosso problema. È un grosso problema che mi è stato segnalato, oltre che dalle associazioni che si occupano appunto di minori, mi è stato segnalato da numerosi comuni e da numerose amministrazioni comunali del nostro territorio. Ad oggi, 2014, abbiamo circa 5.000 minori che sono sparsi sul territorio nazionale e non si trovano, non si sa dove sono, non si sa che fine fanno, perché scappano dai centri e perché vanno magari anche in mani di organizzazioni criminali. I pochi minori che i comuni riescono ad aiutare finiscono appunto aiutati dai servizi sociali, però lo Stato abbandona i comuni. In che modo? Tutte le spese che sono a carico dei comuni, quindi per l'accoglienza, per l'affidamento di questi ragazzi, appunto devono essere sopportati dai servizi sociali delle varie città. E se magari una città di medie o grandi dimensioni questo influisce minimamente, in modo minimale, sul bilancio del comune, questo non è per i comuni di piccole dimensioni. Ci sono comuni veramente molto piccoli, anche sotto i 5.000 abitanti, che si trovano nel bilancio, anche dover sopportare delle spese ingenti, anche solamente perché hanno a carico uno o due minori stranieri. E quindi la domanda, la richiesta che fanno in particolar modo i piccoli comuni è un allargamento del patto di stabilità in modo da poter avere la possibilità di poterle aiutare, o in caso contrario che se ne faccia carico dello Stato. Noi continuiamo contemporaneamente la nostra battaglia perché diciamo che è inumano il fatto che ci siano dei giovani, dei giovani minorenni che siano sparsi sul territorio nazionale e abbandonati a loro stessi. Forse sarebbe meglio, come fanno tutti gli altri paesi europei, riaccompagnare questi minori nei paesi d'origine.